Sabato alle ore 16 a Fano 2 tra Piazza Capuana e il parco di via Serafinna festeggeremo in collaborazione con la GESCI Scout e anche con il circolo ricreativo Le Fontanelle la riqualificazione di tutto il quartiere una riqualificazione che parte da lontano in questi anni abbiamo interessato la realizzazione di una nuova area gioco per i bambini di un'area attrezzata per cani e in quest'ultima fase ha visto veramente la bonifica di quello che era la fontana al centro di Piazza Capuana dove abbiamo smantellato tutto l'impianto idraulico e abbiamo previsto una nuova fioriera una fioriera con un impianto di irrigazione dell'illuminazione proprio per illuminare al meglio quello che è l'olivo al centro e tutte le essenze che ne fanno parte è una riqualificazione che ha voluto fortemente anche la comunità invitandomi ad allestire al meglio quello spazio con delle sedute quindi con dei nuovi arredi proprio per creare quel luogo come un luogo familiare è importantissimo per noi fa parte un po della filosofia con cui ci stiamo adoperando nella città abbiamo riqualificato anche tutte le sedute sul parco appunto limitrofe dove abbiamo dove gli stessi ragazzi degli scout hanno provveduto a metterci del colore e sicuramente a trasformarlo in un veicolo di pace un bellissimo messaggio per tutta la comunità in quell'occasione proprio sabato i ragazzi organizzeranno tante iniziative di gioco per i bambini ci sarà appunto una merenda messa a disposizione del circolo ricreativo le fontanelle che ringraziamo per la collaborazione e i bambini avranno una grandissima occasione proprio di mettere di lasciare la loro imprint con della vernice sulle sedute che si chiamano proprio sedute di pace il bello porta al bello e il bello sicuramente tutto ciò che pace